Musica Buonasera gentili telespettatori e benvenuti da On Air News. Il territorio del cratere sismico ripiomba nella paura e nel terrore. Un incubo senza fine che ha toccato uno dei suoi apici questa notte alle 5.11, poco prima dell'alba quando è stata registrata una scossa di magnitudo 4.6. L'epicentro è quello ormai consueto, la zona tra Muccia e Pievetorina, devastata negli ultimi giorni da una serie di eventi tellurici, anche rilevanti tra cui il terremoto 4.0 del 4 aprile alle 4.19. Le poche persone che risiedono nelle proprie abitazioni sono scese in strada in preda al panico ed anche coloro che vivono nelle strutture abitative emergenziali, le cosiddette casette hanno subito un comprensibilissimo spavento ed in qualche caso anche danni comunque lievi. La scossa non solo è stata avvertita in tutto l'entroterra ma anche sino al litorale, dal Conero fino a Porto San Giorgio. Il piccolo campanile della chiesa di Santa Maria di Varano del 600 a Muccia è stato fortemente lesionato e da Pievetorina ben sei famiglie sono state evacuate. di estrema urgenza l'ulteriore messa in sicurezza delle aree dove sono state installate le casette. Vediamo comunque da Muccia il primo servizio su un argomento che non avremmo davvero più voluto affrontare. Servizio realizzato per noi da Manolita Scocco. Ecco cosa resta del campanile nella piccola chiesetta sulla strada che porta a Vallicchio e che è stata chiusa perché più avanti è crollato un capannone. Siamo nel comune di Muccia dove la terra è tornata a tremare. Qui l'epicentro, qui immediati i controlli, la presenza della protezione civile con Borrelli e ovviamente il sindaco e tutti gli uomini delle forze dell'ordine impegnati per capire i danni che sono arrivati dopo la forte scossa arrivata all'alba. Naturalmente è tornata la paura, una paura che sostanzialmente non è mai passata. Le prime rassicurazioni da parte soprattutto del sindaco per quanto riguarda le persone nelle SAE e anche per quanto riguarda quelle che sono nelle case che erano state dichiarate agibili. Quindi non ci sarebbero problemi per le persone né per quelle ospitate nelle cosiddette casette né per quelle che erano rimaste nella propria abitazione. Ma certo con la terra che è tornata a tremare sono tornate anche le paure e le preoccupazioni. Signora Maria, siamo usciti tutti adesso proprio qualche istante fa perché una piccolina ma ne è arrivata un'altra di scossa, no? Si sente anche il buato? Come si convive con la paura? Male, male tanto perché io ho tanto paura, ancora pensi tutto quello che è successo la prima volta. Quella delle cinque l'ha sentita bene? Si, 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 proprio bene, anzi ho strillato pure ma ho sentito i figli. Ci sembra però che qui almeno vada tutto bene? La mia non ha fatto niente, non lo so dall'altro, non lo so. Lei dove abitava prima? Abitavo qui a Vicolo del Colle. A Muccia? Si, si, sempre a Muccia. Cosa bisogna avere? Pazienza tanta, un po' tutto però la paura non manca. Su 164 casette, sai, ci sono tre casette che hanno, guarda caso, proprio a Costa Fiore dove c'è stato l'epicentro del sisma. Lì si è avuto il distacco dei pensili ma perché hanno scorso sulle guide ma niente particolare. Quello che succede anche sulle case normali, perciò non dobbiamo fare drammi perché le case sono sicure, la gente sta tranquilla dentro le case e dobbiamo fare sempre la polemica dove non bisogna farla. Le case sono, ripeto, sono sicure e la gente sta tranquilla dentro. Perciò, anzi, chi ha la casa agibile che sta a casa, gli piacerebbe avere una casetta di queste legne per stare tranquilli e dormire in serenità. Allora, noi per questa notte abbiamo riaperto i dormitori che eravamo quasi praticamente chiusi perché chi dormiva lì, adesso avevano preso le sai e dormivano le sai. Perciò per chi ha paura e chi ha anche casa agibile l'abbiamo riaperto e possono approfittare di dormire lì tranquillamente con la speranza che non vengano altre scosse perché lì sono sicuri, però la paura delle scosse ce l'abbiamo tutti. Ed è molto complesso, ovviamente, dare una risposta a questa ripresa e con questa intensità dell'attività sismica. Due ulteriori scosse di magnitudo 3.5 sono state registrate a Pievetorina alle 5.46 e alle 6.03. Poi, nel corso della mattinata, una sequenza ininterrotta di piccoli terremoti, diversi dei quali sopra il secondo grado della scala Richter, quindi avvertiti dalla popolazione dell'epicentro, il cui sistema nervoso rischia davvero di andare a pezzi. Ogni evento è preceduto di pochi secondi da un buato. Un po' in tutto il cratere proseguono i sopralluoghi sugli immobili, sinora ritenuti agibili. Il tratto ferroviario Civitanova-Macerate è rimasto chiuso sino alle 9 per completare le necessarie verifiche che ora stanno interessando il segmento sino ad Albacina. Scuole chiuse oggi con ordinanza del sindaco Gentiluccia Pievetorina mentre le elezioni si sono svolte regolarmente a visso. Il grido dei sindaci dopo una riunione con il capo della protezione civile Angelo Borrelli, il commissario straordinario alla ricostruzione Paolo De Micheli ed il presidente della regione Ceriscioli è univoco e se ne è fatto portavoce il primo cittadino di Camerino, Gianluca Pasqui. Il cratere è qui tra queste facce stravolte e estremate. Il prossimo che mi parla di 138 comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza. Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi. Adesso il cratere va diviso in fascia, ha concluso il sindaco, a seconda dei livelli di danno per consentire procedure veloci e semplificate che permettano di continuare a vivere in queste zone. Sentiamo comunque la nostra intervista proprio con Angelo Borrelli tra i primi ad arrivare nelle zone colpite dal terremoto. Qual è la situazione che avete trovato dopo la forte scossa dell'alba? Sì, abbiamo trovato qui a Piavedolina una situazione di danneggiamenti che il sindaco ci aveva preannunciato. Ci sono sei famiglie che hanno lasciato le proprie abitazioni perché sono state danneggiate, sono ospitate ovviamente dal comune e dalla regione. C'è stato anche un danneggiamento nella contrada Varano di Muccia, quella chiesa del 600 che ha subito dei danni e sono in corso verifica certamente in tutti gli altri comuni intorno al cratere. Invece per quanto riguarda la situazione nelle casette? Per quanto riguarda la situazione nelle casette, la situazione è che in alcune casette i pensili che erano ancorati si sono spostati e adesso le ditte sono intervenute e li hanno riancorati fissandoli meglio. Per quanto riguarda la scossa, si tratta di una scossa che è nel solco ovviamente dello sciame sismico che si è verificato dal agosto del 2016, siamo a oltre 85.000 scosse e questa è stata una scossa abbastanza consistente e elevata. Proprio in quest'area c'è stato il crollo di un muretto? Il muretto è un muretto a secco che ovviamente non aveva una funzione di reggere qualcosa, quindi mi pare che hanno detto che tecnicamente c'è stato anche nel muoversi del terreno, ha toccato un mure e quindi è venuto per un'azione meccanica, si è rotto il muretto. Sulle scuole saranno fatti tutti i controlli, qui erano chiuse a scopo precauzionale le scuole, però problemi particolari noi non li abbiamo registrati e qualora si dovessero registrare prenderebbero i provvedimenti del caso. Ed il giudizio degli esperti è pressoché unanime, si tratta dei cosiddetti aftershocks, ossia delle conseguenze delle scosse iniziate ad agosto-ottobre del 2016. L'entità di quegli eventi fa pensare, anche facendo riferimento al lungo sciame sismico che ha accompagnato il post terremoto dell'Aquila del 2009, durato quasi tre anni, che per tornare ai livelli di sismicità anteriori al 24 agosto 2016 dovranno passare sicuramente dei mesi, forse ancora degli anni. Si tratta di previsioni che trovano concordi un po' tutti i sismologi, anche se parlare ovviamente di logica e di razionalità di fronte ad eventi del genere è davvero arduo. Il punto della situazione è stato fatto anche dal Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che sentiamo in questa intervista. La situazione è una situazione di grande preoccupazione, di paura. Chi ha vissuto per mesi le scosse pensava in qualche maniera di essere uscito. Il 4.6, il 4.7 è stata una scossa importante e quindi è nata tanta preoccupazione. Ci sono stati anche sei appartamenti, sei famiglie che hanno avuto la casa danneggiata, quindi questo assegnare anche la forza della scossa, ma per queste famiglie, per chi ha subito danni in questo momento, agli avrà le stesse risposte, gli stessi trattamenti di tutti gli altri. Quindi non devono temere che se la scossa è stata mesi dalle prime, non ci sia per loro la stessa attenzione che c'è per gli altri. Continuano le misure d'emergenza, un motivo in più che allungherà probabilmente il periodo d'emergenza. Noi abbiamo chiesto una ventina di giorni fa ai Presidenti di Camera e Senato di venire a visitare questi territori. La parte più colpita, più danneggiata, continueranno a servire misure, risorse, strumenti per i comuni, per tutti quelli che devono operare sul territorio. Forse la scossa ha riacceso questa attenzione che va spesa positivamente, cioè nell'impegno di tutti quanti a favore delle famiglie e delle persone che qui abitano e vivono. Due su due casette, qui ce ne sono 208 a Piove Torina, c'è stato questo problema di slittamento dei pensi, quindi la ditta sta provvedendo per bloccare sia in queste che nelle altre. Questo fenomeno che si è verificato ha seguito la scossa molto forte, forse erano montati male questi perché solo in due è un po' particolare, ma in ogni caso, ogni problema che si presenta, la risposta è sempre quella, cioè si va a risolvere e anche prevenire situazioni simili per le altre casette. Vogliamo tuttavia chiudere quest'ampia pagina dedicata al terremoto con una buona notizia, seppur relativa allo scorso fine settimana. Montalto di Cessa Palombo, quindi a pochi chilometri dall'attuale epicentro, ha riaperto il Giardino delle Farfalle, una delle maggiori attrazioni turistiche della zona. Il servizio è di Barbara Olmai. Siamo a Montalto di Cessa Palombo, comune immerso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata, dove oggi, dopo il sisma, viene ristrutturato il nuovo museo e giardino delle Farfalle, dove c'è un progetto di condivisione, una delocalizzazione di un'attività produttiva, una volontà di due gestori di andare avanti, affinché questo progetto sia di ausilio a una comunità duramente colpita dal terremoto. Sindaco del comune di Cessa Palombo, Gian Mario Ottavi, tutto questo è stato reso possibile grazie al grande sostegno anche di tanti privati che hanno fatto della vera solidarietà in tutta Italia e poi anche dalla parte pubblica. Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati subito dopo il terremoto, di fare ripartire questa struttura, una struttura che era una struttura simbolo per Cessa Palombo, perché portava qui circa 5-6 mila persone l'anno e quindi era il punto di forza del turismo locale. Il terremoto ci aveva un po' demoralizzato e quindi in un primo momento veramente siamo andati un po' tutti in crisi, però io ci ho sempre creduto e con me e i gestori di questa struttura siamo riusciti a portare avanti questo progetto che riesce a mettere in modo e far conoscere tanti aspetti del nostro territorio. Un giorno importante è un segnale importante per una ripresa e una rinascita. Qui due ragazzi credono nel territorio, innamorati della nostra terra, hanno rimesso in piedi un'attività che è appunto di riferimento per tante scolaresche e che può dare anche un futuro a un territorio che diversamente sarebbe poco frequentato. Qui siamo in una delle perle del parco, quindi un centro di educazione ambientale gestito da due giovani ma anche con il supporto di tutto uno staff che valorizza l'area, valorizza i sentieri e valorizza i prodotti tipici locali. Cosa sarà il Giardino delle Farfalle? Cos'è da oggi in avanti? Un luogo di esperienze, natura, quindi si potranno fare visite guidate nel nuovo rialestimento museale, sempre esperienze a contatto con la natura, far avvicinare famiglie con bambini al mondo degli insetti. Abbiamo un negozietto con un allestimento di prodotti tipici, un locale dove poter fare pane, pizza e nostra produzione. Speriamo che questi territori possano riprendere velocemente quello che hanno perduto e anzi fare molto di più. Voi oggi avete presentato un progetto di residenzialità con Silva Pagus. Silva Pagus è un piccolo villaggio laddove in esperienza diretta, quindi in wild, in natura, le persone potranno vivere e godere della natura, addirittura essere in simbiosi alla natura. Brevemente le altre notizie. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7.30 circa a Dancone, in zona Duomo per un incendio. Per causa, in fase di accertamento, è andato a fuoco del materiale ammassato sotto gli archi della strada che conduce al Duomo, usati come ricovero di fortuna dai senza tetto. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutto il sito. Sono intervenuti 5 automezzi con 9 uomini. Non si segnalano danni a persone. Ed un altro intervento dei vigili del fuoco è avvenuto ad Osimi, in località San Sabino, per recuperare un rettile in un giardino privato. Hanno catturato il serpente, che poi è stato esaminato dai carabinieri forestali. Si tratta di una biscia non pericolosa per l'uomo, che è stata poi liberata in campagna. Il nuovo allarme bomba a Fano, ma stavolta fortunatamente il residuato bellico è in mare. Nella serata di ieri, durante l'attività di pesca, è stata rinvenuta una bomba a circa 5 miglia nautiche dal litorale di Marotta. La guardia costiera di Fano ha già provveduto ad emanare l'ordinanza di interdizione dello specchio acqueo per un raggio di 500 metri dal punto di coordinate geografiche in cui si trova l'ordigno. Si è proceduto ad emanare un avviso urgente ai naviganti. Nella zona di mare interdetta sono state vietate la balneazione, la pesca, ogni attività subacqua, il transito, la sosta e l'ancoraggio delle unità navali e da pesca, e lo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa agli usi pubblici del mare. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, dedicata in gran parte agli eventi sismici delle ultime ore. Grazie per la cortesa attenzione. A domani. Grazie per la cortesa attenzione.